E sì, siamo pronti per una nuova puntata, pronto soccorso biblico, quest'oggi analizzeremo un testo importante che è attuale e che può essere considerato da tanti punti di vista, allora quindi dal punto di vista singolo, individuale, collettivo, familiare ed ecclesiastico, con noi come chi già magari ci sta guardando attraverso Facebook, il pastore ventista Giovanni Leonardo. Benvenuto Giovanni, puoi aprirti il microfono così possono sentirti, anche di aprire il microfono così, ecco ecco, perfetto Giovanni. Un ciao a tutti. Allora non so cosa succede dalle altre parti, ma dalle nostre parti c'è un po' di temporale, quindi non so nel resto d'Italia cosa stia succedendo, comunque l'autunno sembra che voglia entrare e penetrare con forza. Anche dalle tue parti Giovanni c'è un po' di pioggia? Sì, credo che gli amici forse sentiranno il rimbombo dei tuoni, etichettio della pioggia, forse, dipende dal mio microfono. Ok. Allora iniziamo subito con l'argomento di oggi che probabilmente riusciremo a completare nella prossima puntata, un argomento che ha a che fare con la misericordia e con il perdono. Mi è piaciuta un po' la domanda che tu mi hai proposto in maniera provocatoria. La misericordia e il perdono sono una questione di numeri e tu ti rifai un testo, un testo di Matteo. Allora cosa facciamo? Partiamo subito dalla lettura del testo o vuoi fare prima un'introduzione? Sì, posso dire questo che in pochi secondi quasi siamo costretti ad esaminare due serie numeriche. La prima è 1, 2, 77, tutto. La seconda è 1, 7, 70 volte 7, tutto. Oggi parleremo di numeri. Vediamo come sono importanti e qual è il loro limite. Ecco, anche perché all'interno della rubrica pronto soccorso biblico cerchiamo di dare degli strumenti per capire quei testi che magari possono sembrare un po' difficili. Allora vado a leggere due versetti, Giovanni, che dici? Magari se permette spiego prima la prima serie. Ci troviamo nell'Antico Testamento, nel libro della Genesi. Dio ha creato un mondo meraviglioso, pieno di armonia, di pace, di solidarietà, di collaborazione buona. Però entra il peccato e a un certo momento con il peccato entra anche la violenza. C'è Caino, il primo figlio generato sulla terra, figlio di Adamo e Deva, che uccide il fratello Abele per un motivo di gelosia, di insofferenza. La storia continua e dopo alcune generazioni appare un altro discendente di Adamo e Deva, che è Lamech. Lamech si è sentito offeso da qualcuno e lo ha ucciso. Anzi scusate, devo tornare un pochino indietro. Dopo l'uccisione del fratello Abele, Caino ha paura. Dice ora diventerò anch'io vittima di questa violenza. Chiunque mi vedrà, mi ucciderà. E Dio pone un limite alla violenza, alla vendetta, dicendo che chi ucciderà Caino sarà anch'esso punito. Sarà punito sette volte tanto. Cosa vuol dire questo sette volte tanto? Non è che se io, qualcuno mi uccide, poi io lo posso uccidere sette volte. Il sette nella Bibbia ha il senso anche della completezza, della perfezione. C'è come dire, se tu fai il male, su di te ricadrà un altro male in misura perfetta. Cioè non puoi sfuggire. Però c'è comunque questo limite numerico sette volte. Lamech ripete, uccide anche lui qualcuno e anche lui sente che la vendetta può coglierlo. E allora lui dice attenzione, perché se qualcuno pensasse di fare del male a me, io non sarò vendicato sette volte come sarebbe stato vendicato Caino, ma io sarò vendicato settanta volte sette. Cioè come dire, la perfezione della vendetta, del male, della rabbia è saltata. Fino a quando, seguendo questa logica, tutta la terra è piena di violenza. La vita diventa proprio in pericolo, perché ogni carne ci racconta la storia della Genesi, ha corrotto la sua via e Dio deve ricominciare da capo, manda il diluvio, eccetera, eccetera. Con questo in mente arriviamo alla storia invece, alla seconda serie numerica che troviamo invece nei Vangeli. Magari tu o Daniela ci puoi leggere un testo fondamentale. Allora, leggo quindi Matteo 18, i versetti 21 e 22, oppure vuoi che legga qualche verso prima? Dipende dal tempo che abbiamo. Allora, ecco, abbiamo circa 12 minuti. E allora ce la facciamo. Allora, quindi da dove leggo? Dal vesto 19. Ok. Ancora, io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli, poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Allora Pietro, accostatosi, gli disse, signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli drovo perdonare? Fino a sette volte? E Gesù gli disse, io non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Cioè 490. Però è importante come lo dice Gesù, perché se noi dicessimo 490 vedremmo solo un numero grande, ma non coglieremmo il senso, perché i sette di Pietro e 70 volte sette di Gesù sono tutti i numeri fondati sulla cifra sette, che come abbiamo appena visto comporta in sé il senso della perfezione. Allora Pietro ha nella sua mente un altro numero, che è il numero uno, che è già un miracolo, perché secondo la logica di Caino e di Lamech, quando qualcuno mi fa del male, la risposta istintiva è quella di restituirglielo con gli interessi, cioè non è anche di respingere la persona, di rompere i rapporti con lui, per cui già accettare di perdonare una volta è un atto di misericordia. Però Pietro capisce che con Gesù è chiamato a qualcosa di più del bene normale, della misericordia normale. E allora lui dice, signore, se andiamo a sette volte di perdono e di misericordia, sei contento? Va bene? Quindi per Pietro il sette è il numero massimo, il numero del perdono perfetto, della misericordia perfetta, così come Dio, come era stato stabilito all'inizio della storia umana in rapporto alla vendetta, no? Sette volte di più, ma non oltre. Però Gesù non è contento, sarebbe già qualche cosa. Già Pietro capisce che bisogna non seguire la logica dell'aumento della violenza, ma la logica dell'aumento della misericordia. E Gesù gli dice, io ti dico che tu perdonerai al tuo fratello non sette volte, ma settanta volte sette. Cosa vuol dire Gesù? Vuole dire che come il male ha conquistato tutto l'essere dell'umanità, ogni carne che si corrompe, ogni carne che vive nella logica della violenza, così bisogna che per ritornare alla vita precedente, alla vita dell'armonia, alla vita della pace, alla vita della vita vera è piena, bisogna ricostituire questa logica in direzione opposta. Cioè come il peccato ha prodotto un incremento della violenza per renderla assolutamente perfetta, così noi dobbiamo con l'aiuto di Dio compiere un percorso di perfezione della misericordia, della non violenza, del perdono, dell'accoglienza, della capacità di comprendere l'altro, di desiderare sempre il suo bene, questo settanta volte sette che deve riempire il mondo, c'è una misericordia che non ha fine, c'era la violenza passata che non aveva fine, ora il cristiano non è che è chiamato a perdonare una volta o sette volte o settanta volte o settantassette volte o settanta volte sette, questo numero settanta volte sette indica l'assoluta signoria, l'assoluta perfezione della misericordia ed ogni volta che noi perdoniamo noi ci inseriamo in questo percorso di ricostruzione del mondo, diventiamo collaboratori di Dio per ritornare alla terra dove tutto era molto buono. Quindi potremmo dire che nel momento in cui noi iniziamo a non far più il conto di quante volte perdoniamo, lì abbiamo capito cos'è il perdono, perché fino a quando diciamo ti ho perdonato una volta già, due volte, tre, quando iniziamo a contare le volte che abbiamo perdonato l'altro ancora non abbiamo capito il senso del perdono, quando iniziamo a capire che non è nel contare che diventiamo bravi e quindi se perdoniamo tante volte siamo bravi, ma nella misura in cui noi non pensiamo più a quante volte abbiamo perdonato, ma riusciamo a pensare alla misericordia di Dio che dice che è al di sopra dei cieli. Credo che tu dica molto bene Daniela, cioè la misericordia, l'amore, la pace non hanno numero, non hanno numero, la perfezione, Dio aspira alla totalità, Dio è la totalità, Dio è l'unico Dio che riempie di sé l'universo e vuole riempire la nostra vita e vuole che la nostra vita e la vita del nostro mondo sia un'immagine di questa totalità di Dio nel bene. Gesù ci sta proponendo una ricerca di adessione a ciò che Dio è, ci sta richiedendo di diventare collaboratori di Dio nella creazione di un mondo migliore e questo mondo migliore non può avere limiti, perché la perfezione dell'amore, l'amore o è veramente amore globale o difficilmente lo si può definire amore. Un amore che conta è in sofferenza, non amore, è fatica. L'amore e la misericordia e il perdono debbono diventare la vita e noi vogliamo la vita eterna. Mi pare che l'Apostolo Paolo dica nella lettera dei Corinzi, non so se è la prima o la seconda, che noi siamo ambasciatori di Dio attraverso Cristo, di quella riconciliazione che Dio ha stabilito nella figura, nella persona, nella vita di Gesù. Quindi siamo ambasciatori di questa riconciliazione che è frutto di misericordia. Questa è una bellissima immagine dell'Apostolo Paolo insieme ad altre immagini. Pensiamo ad esempio all'immagine come corpo, noi siamo il corpo di Cristo e il corpo di Cristo, se è un corpo sano, non fa altro che esprimere la volontà, l'essere, i valori, gli ideali, i pensieri del capo che tutto guida, cioè Gesù Cristo. Con questa immagine anche del corpo, l'immagine dell'ambasciatore ci dice che noi dobbiamo esprimere qualche cosa. L'immagine del corpo ci invita ad esprimere la totalità di quello che Gesù rappresenta per noi e nella vita dell'universo. L'amore, la pace, la giustizia, senza limiti, non ci sono limiti in questo. Altrimenti anche Dio sarebbe contabile, cioè contabile nel senso che può essere contato, invece Dio non può essere contato. Dalle parole di Pietro, da quelle parole che invece prima Gesù ha pronunciato, sembra che il riferimento sia alla comunità. Gesù non ci aveva fatto caso, devo dire, è una cosa che ho afferrato stamattina, perché mi sono chiesto ma in che contesto Gesù e Pietro si scambiano quelle parole? Ecco, Gesù aveva appena detto che quando due o tre sono riuniti nel nome di Cristo, lì sarebbe stato Gesù. Però Pietro, quindi sta parlando della comunità cristiana, dell'essere riuniti nel nome di Gesù, però Pietro, da persona intelligente che è, sa che anche nella comunità cristiana ci possono essere dei problemi. Anche i fratelli possono fraintendersi, possono avere atteggiamenti sospettosi e possono farsi male l'uno con l'altro anche nella comunità cristiana, che dovrebbe rappresentare questa pienezza di Cristo ma che ancora non è capace di farla perché non è totalmente purificata. Allora ancora di più nella comunità cristiana ci vuole la misericordia e il perdono e Pietro propone quella via bella, sette volte. È bello, signore. Il sette ci ricorda l'opera di Dio, la creazione di Dio, la sua perfezione, la competenza. Quindi ho capito bene, signore. Gesù però intuisce che quei sette sulle labbra di Pietro non indica la pienezza ma indica il limite. Cioè sette volte sì, ma otto volte no. E Gesù dice no, deve andare oltre i numeri. Deve andare oltre i numeri. Potremmo dire, Giovanni, che indica una pienezza ma non quella di Dio ma dell'orgoglio. Cioè io sette volte se perdono sono bravo. E quindi ho una pienezza di ego, non ho una pienezza di Dio. Sì, ci sarà, ci sarà un po'. Siamo troppo complicati noi per poterci capire. Anche il povero Pietro aveva qualche problema di comprensione di se stesso. Però è cresciuto. Già quei sette, guardate che è un miracolo. Perché già noi abbiamo difficoltà a perdonare una volta. Invece Pietro arriva a dire sette volte, signore, il numero di Dio. Anche perché mi sembra questo sette volte, non so se in questo testo o in un altro, Pietro dice se in un giorno viene sette volte. Mi sembra che sia in un aggiornato. Lo stesso, sembra lo stesso episodio ma riportato con parole diverse nel Vangelo di Luca dove Gesù dice se tuo fratello viene a chiederti perdono sette volte in un giorno, tu sette volte perdono. Ora guardate che sette volte in un giorno è tanto perché c'è da perdere proprio la pazienza. Ma capiamo che non è una questione di numeri anche lì. Quindi non si fa presto sette volte al giorno a raggiungere i settanta volte sette. L'idea, quella fondamentale è vai oltre il limite. Come Dio ha manifestato la sua misericordia con noi, il suo perdono con noi, andando oltre il limite della ragionevolezza. Diventando, dice l'Apostolo Paolo, pazia attraverso la morte del suo stesso figliolo sulla croce, anche noi guardanti a Cristo dobbiamo imparare a diventare pazzi. I numeri in qualche modo esprimono una logica di tipo matematica, no? Gesù ci invita a rivoluzionare la logica dei numeri, ad andare oltre i numeri e accogliere il cuore di Dio e fare nostro il suo cuore. Passiamo ai saluti, ci saluta Matilde che dice pace a voi e poi dice non sono brava in matematica, nel senso quando abbiamo fatto l'introduzione dei numeri. E Letizia dice interessante, grazie. Anna ha una domanda, io ti faccio questa domanda ma risponderemo nella prossima puntata. Te chiede una domanda per Giovanni, ma quando si perdona sempre una persona che ha commesso il peccato e non si pente, puntini, puntini, puntini? Non è questione di numeri quante volte, ma se vediamo che l'altro o l'altra non è consapevole malgrado tutti i nostri sforzi. E si continua a perdonare, ma quello continua ancora. Poi Matilde ancora sta scrivendo in questo momento, dice lasci l'empio la sua via e l'uomo inico i suoi pensieri, se si converte egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Perché non dovremmo farlo noi? Ecco questa è la domanda che di Matilde. Però riprendiamo queste due domande nella prossima puntata perché certo devo andare al concreto ora, perché succede che tu perdoni e l'altro non capisce di aver sbagliato. Cosa significa perdonare quando l'altro non si pente? Sì, sì, penso che ci sono delle domande interessanti. Allora grazie Giovanni, alla prossima, quindi avremo di che parlare. Invitiamo quanti ci seguono a farci domande o anche raccontarci la loro testimonianza in riferimento proprio a questo tema, misericordia e perdona. Allora presto, buona giornata.